Allora, prima di tutto una notizia di servizio per tutti i bambini all'ascolto, un minuto non dura 30 secondi, è che io vado di fretta, mi sono venuto con le partite di calcio, quando si vince un minuto deve durare 30 secondi, quando si perde un minuto può durare anche 6 minuti, va bene scusatemi per questo errore del tempo, devo ristudiare l'orologio. Allora, detto questo, signori, passiamo ancora a qualcosa di serio, purtroppo per il Covid passiamo a vedere che cosa succede nella provincia autonoma di Trento e stiamo per fare questo in linea con il dottor Maurizio Fugatti, che è presidente della provincia autonoma di Trento. Buonasera dottor Fugatti. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Buonasera. Senta, ci vuole dare lei un po' un'indicazione, una panoramica, perché lei ha preso delle decisioni, secondo me giuste, importanti, anticipate, però ci dica lei cosa sta succedendo in quel di Trento. La provincia autonoma di Trento è stata una realtà che è stata molto colpita nella prima fase del Covid, nella fase diciamo marzo-aprile, ed è ancora molto colpita in questa fase. abbiamo soprattutto un numero dei decessi sicuramente superiore alla media nazionale, che è un po' un dato che contraddistingue comunque tutto l'arco alpino. interessante però quello che lei ha detto, Fugatti, ma c'è qualche motivo per cui, no, perché lei ha detto è un dato che contraddistingue tutto l'arco alpino. Allora, o i numeri arrivano più esatti, perché forse ci sono meno persone, meno popolazione, quindi è più facile dare numeri esatti, quindi vediamo di più il dramma, oppure c'è qualche altro motivo. Qualcuno ha pensato a questa cosa? Ma questo io credo che lo dirà la scienza a conti fatti alla fine dell'epidemia, perché che ci sia una differenza di decessi fra nord e sud del paese, questo è un dato di fatto, lo vediamo dai numeri, quindi saranno delle declinazioni scientifiche, io devo dire, territoriali, che spiegheranno questo. Quindi non mi addentrerei adesso in questa fase, anche perché dovremmo capire perché l'Italia, per esempio, è il paese che ha il più alto numero di decessi. Ha capito questo, sarebbe, devo dire, non è semplice oggi spiegare perché l'Italia è il paese. Secondo me è perché siamo quelli che contano meglio. Dottore, permesso che siamo quelli che contano meglio. Lei, lo dico purtroppo dicendo la verità, lei pensi che nella prima fase del Covid, dopo quando il Ministero della Salute fece i conti dei numeri, al Trentino vennero tolti una sessantina di decessi, nel senso che noi avevamo, diciamo, calcolato come decessi da Covid, 60 persone che poi il Ministero, fatte le sue valutazioni, ci ha tolto. Tanto per dire quello che dice lei, io non so, questo non lo so, mi farà una richiesta che non le so dire. Quindi probabilmente ci saranno delle classificazioni che verranno fatte a conti fatti, voglio dire, a pandemia finita e si capirà perché l'Italia, perché il Nord Italia è una delle realtà più colpigie sotto questo punto di vista. Comunque, al di là di questo, che è purtroppo un tema centrale. Bugatti, io credo che uno dei motivi sia anche la densità di popolazione, voglio dire che è maggiore sicuramente in questo momento al Nord rispetto al Sud, no? La Lombardia, per esempio, è molto colpita, ma ci abitano anche 11 milioni e mezzo di persone. Ma non le zone alpine, però. Non le zone alpine, però ne manca la gente sparsa sulle montagne, insomma, stando nel paese. C'è anche il discorso dell'inquinamento che credo da voi, Bugatti, non c'è il problema. Potrebbe essere anche l'età media, potrebbe essere anche l'età media. Forse, noi abbiamo un'età media più alta. Morti in Italia sicuramente l'incidenza è la popolazione anziana. Potrebbe essere l'incidenza delle... Io vi faccio presente che i tedeschi che hanno cominciato a avere il Covid hanno i morti uguali a noi. Sì, sì, ma... Potrebbe essere l'incidenza, il numero di case di riposo. Noi in Trentino abbiamo un numero maggiore rispetto alla media nazionale di case di riposo. Quindi, io dico, i conti li faremo e li farà anche, diciamo, la parte scientifica alla fine di questa epidemia. Comunque noi, al di là di questo, siamo un territorio che è sempre rimasto giallo nei parametri del Ministero della Salute. E questo non è stato un bene per noi, perché anche nel Lazio siamo sempre rimasti gialli, ma vedo che ci sono delle flessioni in peggioramento in questo momento. Una fortuna essere gialli, ma... Io credo che sia ormai riscontrato, l'Istituto Superiore di Sanità farà anche le proprie valutazioni, ma questo lo sai col seno di poi, voglio dire, non lo potevi sapere tre mesi fa, che i territori che sono rimasti gialli riescono a frenare il contagio? Sì. Lo bloccano e lo fanno atterrare? Questo mi pare di no, perché non è nella mia realtà questo, non è nel Lazio, come dite voi, non è in altre realtà. Nelle realtà rosse riesce a frenarlo di più? Sì, riesce a frenarlo di più. Anche se poi, per esempio, vediamo alcune realtà che sono state arancioni, che oggi, uscite dall'arancione, comunque sono ancora fortemente in difficoltà. Quindi anche qui, voglio dire, la scienza farà le proprie valutazioni. Posso fare una domanda a lei? Siccome lei è tra quelli che comandano, almeno lei un po' di comando ce l'ha. Vabbè, ma lei un po' di comando ce l'ha. Non esageriamo. Ha un po' di autonomia. Però, vabbè, ragazzi, ce l'ha tanto di comando. Ah, ecco, per quello sti. C'ha un'autonomia, c'ha un'autonomia, gli permette di fare leggi che altre cose. Quindi io faccio una domanda. Perché, così, secondo me, siccome in questa università, da quando è finito il lockdown, si è cominciato a fare tamponi veloci e esami seriologici. Tutte le settimane a tutti, prima agli studenti, quando frequentavano, agli impiegati e ai professori, attualmente si continua con gli impiegati e i professori, perché gli studenti, purtroppo, non ci sono più. Le dico la verità. Quando c'erano anche gli studenti facendo tamponi tutte le settimane a tutti e i seriologici a tutti, noi abbiamo scoperto dei casi Covid che arrivavano dall'esterno, ma li abbiamo subito chiusi, circoscritti e via. Tanto è vero che anche all'interno di questa università, ad oggi, casi Covid non ce ne sono in maniera drammatica. Qualcuno arriva il lunedì che si è preso il Covid e se ne va via. Non toccatevi, non fate cose strane. No, perché qui tutte le volte si parla di qualcosa di buono. Allora, diciamo che tutti sono tranquilli. Domando, perché? Perché voi che siete... Un tampone veloce costa 5 euro. 5 euro se ne compro pochi come li compro io. Se ne comprate pezzi in dosi industriali, si arriva a pagare anche 2,5 euro o 3 euro. Detto questo, ma perché non si rende obbligatorio per ogni imprenditore che ha 3, 4, 5 dipendenti nella propria impresa, fare il tampone a tutti. Forse avremmo evitato tantissimi problemi. Avremmo potuto tenere ristoranti aperti, avremmo potuto tenere palestre aperte. Perché dire se vuoi andare in palestra ogni settimana ci deve aver certificato del tampone fatto. Non è mica peccato mortale, voglio dire. Se no, in palestra non ci vuoi. Punto. Cioè, per tentare di vivere, perché qui abbiamo ancora un anno davanti, che non sarà un anno felicissimo, bisogna dircelo, perché se no creiamo cattive aspettative. I vaccini che abbiamo entro giugno sono a malapena 25 milioni, si vaccineranno 13 milioni di persone. La vera dose industriale di vaccini si farà, speriamo, da settembre in poi. Quindi, fino a dicembre, staremo tutti chiusi in casa con la museruola in faccia. Perché voi che siete una provincia autonoma non riflettete su questa possibilità? Beh, io auspico ovviamente che non si resti fino a dicembre con la mascherina in casa, anche perché il Covid una cosa ce l'ha insegnata finora che con la primavera-estate un po' se ne va. Ecco, quindi incrociamo le dita al di là del vaccino, che sarà importante. Incrociamo le dita e anche le braccia incrociano. Esatto, speriamo che accada come l'estate scorsa, che la cosa si era un po' bloccata. Sì, sì, sicuramente accadrà. Abbiamo già scoperto che scientificamente... Prego. Dopodiché, noi siamo una realtà autonoma, se lei va a guardare sui dati dei tamponi fatti rispetto alla popolazione residente, lei vedrà che la provincia autonoma di Trento da marzo a sostanzialmente ad oggi, a novembre-dicembre, è il territorio che ha fatto più tamponi rispetto alla popolazione residente, in percentuale sulla popolazione residente. Questo perché? Perché comunque abbiamo cercato di sfruttare al massimo le potenzialità della nostra autonomia. Fare il tampone, lei dice, all'interno delle imprese, all'interno delle palestre... Allora, io provo... Per me sarebbe facilissimo dirle di sì, si può fare, e quindi siamo tutti, diciamo, in linea. Però devo essere anche oggettivo, perché ogni giorno noi ci confrontiamo con la nostra parte scientifica e per esempio il tampone, il cosiddetto tampone antigenico, ha una affidabilità quando vi è una persona sintomatica, una persona che ha sintomi. Nel momento in cui tu fai un tampone antigenico su una persona che non è sintomatica, oggi la scienza, diciamo, e quindi chi fa il tampone, chi fa i reagenti, chi fa chi costruisce il tampone, non ti garantisce di essere di fronte ad una persona diciamo... Può essere un falso negativo. Dottore, mi permetta però. Mi permetta. Perché sarebbe semplice dirle che ha ragione. Dottore, mi scusi. Però, io le voglio dire una cosa. È vero che questi scienziati sanno tante cose più di noi, ma non è così. Questa è una leggenda metropolitana e le assicuro che se si fa il tampone veloce, tutti lo fanno in maniera industriale, nel modo giusto, lei, se qualcuno ha il Covid, lo trova. Noi, in questa università, tutti coloro che sono risultati positivi al nostro tampone, alla fine avevano il Covid. Qualche caso rarissimo, fortunatamente era positivo e poi non aveva niente. Ok. Quindi voglio dire, intanto si fermano un po' le situazioni. Potenzialmente, quanti... Lei, quello che ha il Covid, lo ha trovato. Ma quanti falsi e negativi ha creato potenzialmente con questa scelta? Cioè, lei ha anche... Guardi, falsi negativi non ne ho creati, le spiego perché, perché se no saremo morti tutti, perché alla fine qui siamo tutti in giro, lavoriamo tutti, ho capito, però lavoriamo tutti. Io le voglio dire una cosa, portare la mascherina obbligatoriamente FFP2 per tutti, avere i plessi glass sulle scrivania, avere i plessi glass dove si mangia, fare il tampone, se mi permette aiuta, c'è poco da stare a chiacchierare. Cioè, io capisco che tutti si vogliono inventare una formula diversa, ma sai, io sono un artigiano, lavoro con le mani e quindi alla fine le cose sono facili. In questo sistema mediocre, noi fino ad oggi ci siamo osservati e ora, fino all'ultimo dell'anno, siamo servi. Vedete, voglio fare un altro esempio che non dovrei farlo, ma glielo voglio fare. Io ho una squadra di calcio, è la Ternana. Nella mia squadra di calcio si fanno i tamponi due volte a settimana, due volte a settimana, perché una volta sola non basta e siamo l'unica squadra d'Italia, di calcio, tra i professionisti che fa il tampone due volte a settimana. Avremo, prima o poi, avremo qualcuno che si ammala sicuramente di Covid, voglio dire, succederà sicuramente, però lo beccheremo appena succederà. Ci ammaleremo in 6, in 7, in 8, in 10, ma non in 27. Cioè, il problema è che se tutti controlliamo tutto, le cose funzionano meglio. è che qui abbiamo fatto tutto con un po' di leggerezza, mi scusi, oggi siamo ristoranti chiusi, bar chiusi, palestre chiusi, alberghi chiusi, cervello chiuso e tutta l'economia è andata a bagno, però siamo contenti che stiamo chiusi in casa tutte le vacanze. Quindi glielo dico io come andrà a finire, non risolveremo niente. Quando a gennaio usciremo fuori, non è vero che riapriranno le scuole il 7, non è vero che si andrà agli stati a gennaio, a gennaio arriverà un'altra bella ondata di Covid insieme all'influenza e siccome in Italia non siamo fatti manco il vaccino per l'influenza, sarà un bordello. Ora bisogna riuscire a risolvere quello che arriverà, c'è bisogno di essere un genio, manca uno scienziato per capire questo. C'è una cosa facile, gennaio, febbraio e marzo sarà una tragedia. Gennaio, febbraio e marzo saranno mesi difficili, lei ha ragione, diciamo non lo scopriamo noi questa sera, questo è un dato di fatto. E allora però troviamo le soluzioni a questa cosa, perché se no sarà sempre peggio. Quindi io dico lei che ha la possibilità di farlo, se ne faccia due ragionamenti con tutti i geni che abbiamo in giro in Italia, perché sa, mi ricordo che tra pochi giorni si rifà il 5 di gennaio, dove qualcuno disse in televisione ah, Covid quando non arriverà mai è un problema per cinesi. Purtroppo questo problema è per cinesi, i cinesi l'hanno risolto a giugno insomma, noi invece siamo ancora qua. Non vorrei che fosse un problema per noi insomma. Questa è storia. Questa è storia, però la storia ci insegna, c'è una canzone di Zichy. Invece non ci insegna. La storia ci insegna, bisogna ascoltarle certe cose. Presidente, senta, a proposito anche di questo discorso, perché poi lei ha come dire la sua autonomia decisionale ma fa sempre i conti con il governo centrale. Come ha vissuto lei e come ha visto in generale il rapporto tra regioni e Stato centrali per l'organizzazione anche sanitaria per le scelte che sono state prese? La domanda è molto interessante, mi permette anche di spiegare alcuni aspetti. diciamo che con questa pandemia le possibilità di agire autonomamente anche da parte di un'autonomia speciale come la nostra sono molto ma molto ristrette, nel senso che il governo ragiona sotto l'aspetto di una sicurezza sanitaria nazionale e questi DPCM i vari decreti hanno poche possibilità di infilarsi dentro ed avere margini di autonomia. Qualcosa abbiamo fatto per esempio il Trentino sempre avendo un occhio di riguardo alla situazione sanitaria ha avuto finché si è potuto fare diciamo un'attenzione sull'apertura delle scuole e noi siamo stati gli unici a maggio-giugno maggio-giugno scusi giugno-luglio che quindi non era un periodo di crisi sanitaria che abbiamo riaperto le scuole dell'infanzia e gli asili nido gli unici sostanzialmente in Italia questo l'abbiamo fatto grazie usufruendo diciamo degli strumenti dell'autonomia ha toccato il tema dei ristoranti noi siamo stati quelli che l'ha chiusi una settimana dopo rispetto a quello che ha fatto il governo ma non l'abbiamo mai fatto diciamo in contraposizione con il governo perché guardi oltretutto io politicamente per me sarebbe anche molto facile per il partito al quale appartengo fare politica diciamo contro il governo in carica a livello nazionale però in questa pandemia chi governa e io noi governiamo sa benissimo che le scelte sono scelte comunque innovative nel senso che non è mai dovuto prenderle e che quindi si cerca di lavorare in modo costruttivo per cercare di uscire da questa da questa situazione ovviamente avremmo avuto tanti motivi per fare polemiche per prendere posizioni diverse però in questa fase qua anche andare lo dico da presidente autonomista di una provincia fortemente autonoma perché voi sapete che il Trentino è fortemente autonomo andare ad un scontro ecco definiamolo così con con lo Stato alla fine alla fine si è anche sbagliato Fugatti la sua devo dire che questo quello che ha appena detto è intelligente molto intelligente perché in questo non è il momento di mettersi a fare battaglie politiche sulla gente che muore o su una situazione che infatti oggi il discorso deve essere anche se non lo è nei fatti di unità nazionale cioè ognuno governasse le cose che deve governare in maniera giusta ma dobbiamo collaborare fortemente perché se no non si arriva assolutamente a niente poi quando andremo nelle urne ognuno stabilirà quello che vuol fare però oggi non si può fare polemica oddio non si può fare completamente polemica sul covid perché qui io vorrei domandare al rettore rettore mi scusi lei lei è un economista io ritengo che a livello economico anzi io mi sono un po' stufato di sentire parlare del fatto che vengono dati soldi alle persone che le lemosine una volta una una volta 600 una volta 2000 una volta un miliardo quello che è però di fatto così per me non andremo a un paradiso debito pubblico per me arriverà a 3000 miliardi sarà un debito mostruoso che ci metterà in una condizione pesantissima e io ritengo che proprio perché si doveva far lavorare la gente diciamo che l'atteggiamento socio-sanitario doveva essere completamente diverso lei che cosa ne pensa? penso che è mancato un po' di coraggio non è facile scegliere tempestività coraggio è mancato e adesso siamo sempre in ritardo rincorriamo rincorriamo sia sotto il profilo socio-sanitario che economico certo parlare è semplice fare le cose è più difficile però questo è un dato di fatto però dopo mesi che non si fanno le cose qualcosa bisogna cominciare a farlo secondo me la prima ondata era tutto giustificabile e la seconda no l'abbiamo detto tante volte perché la seconda dovevamo aspettarcela e quindi dovevamo essere sia sotto il profilo socio-sanitario che economico più pronti le contribuzioni a fondo perduto per le piccole e medie imprese che sono il 99,7% delle imprese italiane dovevano cominciare ricordiamolo questo il 99,7% delle imprese italiane sono piccole e medie imprese cioè meno di 15 persone all'interno no questa è la classificazione europea per cui con la media impresa si arriva a 250 dipendenti la media se c'è un tema se c'è un tema dove dobbiamo fortemente diciamo fare pressione sul governo nazionale sul quale aveva anche detto finora le risposte sono state quelle che sono state è quello del ristoro economico a quelle attività chiude dai pensi io vengo da una provincia in cui il 20% del PIL è turismo noi abbiamo chiusi gli impianti da sci che non è solo la funivia che vede la seggiovia l'impianto da sci vuol dire l'albergo il maestro di sci il negozio che fa il noleggio quello che vende la pizza il bar quello che vende le scarpe c'è tutto un indotto intorno che è enorme però vede nel momento in cui tu mi chiudi i rimpianti di sci io chiedo al governo che può fare debito a differenza delle province autonome che non lo possono fare per rimpinguare le casse di chi ha chiuso fai debito e riconosci le risorse a questi perché altrimenti adesso abbiamo chiuso i ristoranti tutti i negozi fino al 6 di gennaio devi garantire i ristori però c'è un fatto che con questi ristori beh accontentiamoci però anche l'ultimo l'ultimo i 645 milioni adesso previsti non è sufficiente no e poi ma soprattutto hanno un difetto che intervengono sempre dopo invece bisognava anticipare Rettore mi permette qual è il difetto è un difetto che si chiama visione cioè uno a un certo punto si doveva fermare già a marzo perché l'ho fatto io giusto scusate adesso io cioè io fino ad oggi ho pagato gli stipendi che dovevo pagare ho pagato i contributi che dovevo pagare ho pagato le tasse che dovevo pagare perché ho semplicemente preso atto che c'era un problema mostruoso e questo problema mostruoso doveva essere affrontato in maniera mostruosa quindi serviva preventiva serviva un programma preventivo per poter andare avanti nel migliore dei modi quindi doveva essere un programma sanitario economico che doveva aiutare questa azienda a viaggiare in un mondo che sarebbe andato a pezzi dove dovevamo sapere con certezza che alcune persone sarebbero trovate con dei problemi e allora in questa piccola realtà noi abbiamo messo in pratica dei finanziamenti oggettivamente per i nostri studenti cioè oggettivi noi abbiamo qua studenti che studiano gratuitamente perché hanno stipulato con noi un accordo dove dopo la laurea pagheranno in dieci anni quello che hanno studiato ok primo unica università in Europa ad averlo fatto e l'abbiamo fatto per tutte quelle persone che avevano voglia di studiare ma che non avevano il denaro abbiamo messo su un'operazione sanitaria assumendo due medici degli infermieri e mettendo insieme a dei biologi un'azione sanitaria cioè voglio dire bisognava muoversi abbiamo fatto delle cose all'interno della struttura spendendo bei soldoni per isolare il più possibile le persone abbiamo qua dentro 170.000 mascherine oggi che sono nei nostri magazzini abbiamo addirittura 50 attrezzature per guerra nucleare e batteriologica perché io speravo arrivassero almeno gli zombie mi scusi e almeno si prendeva a fucilare qualcuno invece non sono manco arrivati gli zombie bisognava svegliarsi mi permetta qui c'è troppa gente che oggi ci sta guidando che non ci può guidare le prossime elezioni non starà qui va bene va il direttore è più sano di me può parlare lui no come avrà sentito Fugatti lei è presidente della provincia autonoma di Trento oggi ha a che fare col presidente della diciamo provincia autonoma dell'unicusano dove c'è un'autonomia guardi che è vessata tutti i giorni dal nostro governo e dintorno è l'unico vero governatore che abbiamo qui stasera bravo sono l'unico vero governatore e le voglio dire che combatto contro uno stato che tutti i giorni siccome gli dispiace che qualcuno sappia fare le cose trova e cerca il modo per non farcele fare ma questa è una storia diversa fortunatamente siamo in Europa e io ho un'università anche in Inghilterra quindi siamo tutti tranquilli andiamo avanti Presidente ma Trento è una provincia ricca no? sicuramente a parte questa situazione ma il contraccolpo al di là dei dati che ci ha dato sugli impianti di sci gli alberghi e tutto l'indotto che contraccolpo sta sta vivendo insomma una parte d'Italia ricca insomma laboriosa con tante risorse state sentendo l'impatto di questa situazione? lo sentiamo sì perché siamo una provincia autonoma nel senso che noi finanziamo tutte le nostre competenze cioè le nostre funzioni e se lei toglie l'ordine pubblico e poco altro mi sento di dire tutto il resto lo gestiamo noi e lo gestiamo con le nostre risorse cioè con le tasse pagate dai cittadini trentini nel momento in cui tu hai un crollo economico come questo rischi di mettere in difficoltà lo svolgimento di queste funzioni perché la scuola ce la paghiamo noi perché la sanità ce la paghiamo noi perché la partita delle imprese la paghiamo noi tutta la parte diciamo dell'innovazione imprenditoriale eccetera il ministro per lo sviluppo economico siamo noi da noi tanto per dire l'agricoltura è cosa nostra le infrastrutture le paghiamo noi quindi con le risorse pagate delle tasse pagate dai cittadini quindi nel momento in cui hai un crollo economico di questo tipo quello che viene messo in discussione è poi la capacità di continuare a svolgere queste funzioni welfare lo facciamo noi di continuare a svolgere queste funzioni come le facevi prima e il 2019 ha avuto già diciamo tenga presente che noi siamo stati in una provincia fortemente colpita da vaia che è stata quella tempesta che c'è stata nel fine fine 2018 lì devo dire che lo Stato è anche intervenuto a sostegno delle perdite che abbiamo avuto quello che procurò la caduta degli alberi esatto noi abbiamo avuto anche anche due decessi in Trentino se lei viene nelle valli del Trentino oggi vede ancora i segni di vaia perché vede ancora sulle valli sì sì no quest'estate sono state in Trentino l'ho vista quindi noi nel 2019 abbiamo dovuto sistemare questa cosa qua nel 2020 è arrivato questo e come ha detto prima il conduttore non finirà domani mattina purtroppo quindi siamo oggettivamente bisogna in difficoltà bisogna tenere duro perché secondo me poi ci sarà una fase diversa che riporterà entusiasmo anche in quelle zone e tutto ricomincerà l'entusiasmo arriverà sicuramente guardi anche dopo la seconda guerra mondiale alla fine siamo andati a armare quest'estate mi piace sta cosa dopo la seconda guerra mondiale è andato a armare quest'estate va bene detto questo io la ringrazio Fugatti e adesso chiudiamo ringrazio lei buonasera chiudiamo con lei manderemo un servizio così se vuole vedere che è ripiologativo diciamo della situazione cioè della chiusura che lei ha fatto e per il quale io mi permetto di fargli complimenti perché data che la situazione ormai è quella che dobbiamo starcene buoni in casa lei ha fatto bene a fare quello che ha fatto senza mezze misure perché l'indecisione le mezze misure ci portavano a un macello lei a gennaio potrà far riprendere la sua popolazione a vivere mentre forse noi avremo qualche altro problema detto questo la saluto e guardi anche lei il servizio buonasera buonasera grazie adesso andiamo con il servizio e fra due minuti torniamo e abbiamo un altro ospite in linea perché faccio questo perché se dovete per caso fare pipì dovete andare durante il servizio oggi oggi lunedì 21 dicembre l'italia è entrata in zona gialla vietati in tutto il territorio nazionale gli spostamenti tra le regioni mentre resta consentito muoversi all'interno della propria regione dalle 5 del mattino fino alle 22 le misure saranno valide fino al 23 dicembre dalla vigilia infatti scatta la stretta natalizia prevista dall'ultimo dpcm 10 giorni totali di zona rossa e 4 zona arancione con coprifuoco sempre alle 22 il decreto natale varato venerdì 18 dicembre dal governo introduce ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre e con il dpcm del 3 dicembre i quali restano entrambi validi fino al 15 gennaio non si potrà fare nulla o quasi nei giorni bollati con il massimo livello di rischio tuttavia si attende che l'esecutivo aggiorni le fac ovvero le domande frequenti sulle misure adottate in vista di natale e capodanno anche perché oltre il 70% dei cittadini italiani ha dichiarato di non aver compreso le regole che entreranno in vigore durante le festività intanto Veneto Campania Val d'Aosta e Trentino sono alcune regioni che ancora prima dell'ultimo decreto legge di Conte hanno emanato un'ordinanza con misure diverse rispetto a quelle nazionali in Veneto per esempio è scattata il 19 dicembre la nuova ordinanza regionale del presidente Zaia che vieta dalle 14 alle 22 lo spostamento in comuni diversi da quello di residenza o di mora in Trentino con l'ordinanza emanata dal presidente della provincia Maurizio Fugatti il 18 dicembre il divieto di non uscire dalle proprie abitazioni è fissato alle ore 20 non più alle 22 come invece sarà in tutta Italia fino al 6 gennaio la Campania poi nonostante il formale passaggio da zona arancione a zona gialla prima delle entrate in vigore del nuovo decreto che impone la zona rossa a tutto il paese ha deciso di confermare le limitazioni previste dalla zona arancione anche se con diverse ma leggere sfumature tutta l'Italia si prepara dunque a questo nuovo momento di sacrificio con l'animo diviso tra la speranza del vaccino e il timore per la scoperta della nuova variante inglese del virus grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti